Quanto è importante oggi a Trieste e a Proprio di Venezia e Giulia parlare di cambiamento e di trasformazione? È importantissimo che sta emergendo questo bellissimo convegno organizzato dal campo di commercio e collaborazione con Rosetti, che la Fondazione Ciro e Trieste è orgogliosa di aver contribuito a realizzare. Il cambiamento sarà il motore dello sviluppo economico del territorio. Il nostro territorio, credo, come sta emergendo, è pronto per far fronte a queste nuove sfide e la Fondazione Ciro e Trieste per questa ragione è stata vicina alla Camera di commercio anche in questa occasione.